Città della scienza work in progress dopo il tremendo rogo del marzo 2013, Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città della scienza, possiamo dire che siamo al momento della svolta della speranza della ricostruzione? Diciamo che noi non abbiamo mai smesso di lavorare dal giorno dopo l'incendio, abbiamo provato a far diventare una tragedia, uno strumento per la ripartenza. Alle spalle, vedete, si è corporea, doveva essere l'ultimo pezzo del vecchio museo della scienza, sarà invece il primo pezzo della nuova Città della scienza. Una città della scienza che vuole essere un luogo importante per Napoli perché crea un luogo di incontro per i turisti, ma soprattutto una grande fabbrica di lavoro. Perché poi questa città che ha delle università splendide, centri di ricerca e ha tanti ragazzi meravigliosi e pieni di capacità, costruire qui a Napoli lavoro vero, di qualità e quindi speranza per la nostra città e per i nostri ragazzi. Ecco, si va avanti ma continua anche la ricerca della verità per quanto riguarda quel 4 marzo? Devo dire, questa è un po' la ferita più sanguinante perché noi immaginavamo appunto di fare un museo, ci siamo trovati coinvolti da un incendio spaventoso, doloso, questo voglio ricordarlo. Sono passati due anni e mezzo, non sappiamo chi è stato e per chi ricomincia un'avventura, una realtà complicata come quella napoletana, non sapere chi alle spalle, nell'oscurità, ha tramato, ha bruciato e poi con dei dossier ha cercato anche di sviare le indagini, è una cosa davvero diciamo spaventosa. Ma io sono convinto appunto che le forze dell'ordine, la magistratura, ci daranno, capiranno come dire, daranno un volto, anzi i volti di chi ha ordito e chi ha materialmente realizzato questo orribile crimine. Un'ultima domanda, cambiamo argomento, il governo Renzi nomina il commissario per Bagnoli, finalmente direi, ecco le cose si aspetta. Ma io mi aspetto da parte della città, come dire, la consapevolezza che se per 20 anni, 25 anni, qui a Bagnoli non si è fatto nulla, se questa città, gli indici di disoccupazione che c'ha, non è sempre colpa di altri. Certo, c'è un problema, come dire, di un'assunzione di responsabilità dell'intero paese su Napoli, ma i napoletani, chi governa la città, chi governa la regione, gli imprenditori, insomma, la classe dirigente deve capire che il tema non è se qualcuno guarda con Napoli, qui non ci sono chi mette le mani sulla città, qui e qui questa città non c'è più nessuno che la guarda. E allora, al diareso delle polemiche, io penso che quello che sia importante è un grande progetto industriale di rilancio della città di Napoli, che ci permette in tempi ragionevoli, assumendoci ognuno di noi le proprie responsabilità, di riportare lavoro, serenità e fiducia e, come dire, insomma, dimostrare che noi napoletani, oltre che lamentarci, sappiamo anche costruire. Poi, e questo è importante dirlo, la realtà italiana, in una fase in cui la globalizzazione, la crisi, l'ambisce dappertutto, con il dramma degli immigrati, con il dramma delle guerre che ci circondano, dimostrano che non è un piccolo problema napoletano. E però, io questo è un punto che voglio, come dire, ribadire, la nostra responsabilità come collettività è importante. Se noi non muoviamo un primo passo è difficile chiedere aiuto agli altri. Valerio Ciotola, giovane napoletano, architetto di 29 anni, che insieme a due ragazzi della sua stessa età ha vinto con il suo progetto il concorso internazionale per quanto riguarda la ricostruzione di città della scienza. Ecco, appunto, come sarà la nuova città della scienza? Beh, la nuova città della scienza l'abbiamo pensata come uno spazio di aggregazione, sostanzialmente, uno spazio in cui sarà possibile verificarsi di più cose, più eventi, più manifestazioni, più esposizioni. Noi siamo partiti, per quanto riguarda il progetto, dalla comprensione del sito, dalla comprensione del sito e dalla comprensione del programma, e quindi tutte le richieste che erano, diciamo, a base di gara. Per cui il progetto, più che, diciamo, fissarsi su un'idea precisa, è stato uno scalare, un divenire. Abbiamo affrontato vari ragionamenti, varie problematiche, e quindi step by step siamo arrivati a questa soluzione. Come, diciamo, peculiarità, è un progetto semplice, ha delle linee essenziali, che richiamano sostanzialmente l'archetipo industriale che fa parte del contesto e della storia di Coroio. Dal punto di vista della matericità, abbiamo deciso di rivestire, di utilizzare il cemento, che è un materiale che, se vogliamo, ha fatto la bella storia di Coroio e la brutta storia di Coroio. Ci sono ancora degli ecomostri, degli scheletri molto vicini a Città della Scienza, per cui abbiamo voluto dimostrare che anche un materiale come il cemento può essere un'espressione di libertà, di bellezza. La facciata riprende sostanzialmente a tutto un gioco di luci e di fori, che la sera faranno accendere l'edificio, permetteranno all'edificio di accendersi come una lanterna e di richiamare l'evento, diciamo, tragico dell'incendio, e oltre ad avere una funzionalità, diciamo, bioclimatica per rendere l'edificio intelligente. Un'altra scelta, diciamo, che ha contraddistinto il nostro progetto è stata quella di ricercare la compattezza. Quindi, sostanzialmente, all'interno di un volume più piccolo di quello che era richiesto, siamo riusciti, sostanzialmente, a posizionare tutto il programma, il che sostanzialmente rende l'edificio più efficiente dal punto di vista energetico. Altre caratteristiche del progetto, sicuramente il rapporto con il paesaggio, cioè una commissione tra l'interno e l'esterno, ampie vetrate che si aprono, oltre, sostanzialmente, l'abbiamo già detto, questa forma estremamente semplice, che è in grado, però, nella sua semplicità, nella sua chiarezza, di rapportarsi e con le rovine esistenti e con il paesaggio di Coroglio, che è un paesaggio infinito e bellissimo, ovviamente. Ecco, i lavori sono già iniziati. Quali saranno i tempi? Adesso abbiamo cominciato con la progettazione preliminare. Stiamo in pieni lavori, ci riuniamo tutti i giorni, sia tra di noi abbiamo un gruppamento molto vasto con professionisti di esperienza che ci aiuteranno a portare avanti, diciamo, il nostro progetto. Ci incontriamo con Città della Scienza per venire incontro a tutte le loro necessità e, sostanzialmente, il preliminare lo consegneremo a fine settembre. Dopodiché ci sarà il definitivo, una volta approvato il preliminare, e diciamo che i tempi dovrebbero essere quelli del 2018, cioè durante l'ultima conferenza con il Presidente della Regione, il Ministro del Rio, si è parlato del 2018 come data di realizzazione dell'edificio. Noi faremo tutto il possibile, siamo sicuri che a livello, diciamo, di progetto, di progettazione riusciremo a fare un ottimo lavoro e adesso speriamo che le tempistiche, insomma, che riusciremo a rispettare le tempistiche. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.